Grazie a nome mio e di tutta la collettività Giulia Bassanini, barelliera dell'ospedale di Piacenza. Grazie ai tecnici di radiologia, alle donne delle pulizie, ai dipendenti che garantiscono i pasti, ai ragazzi che riforniscono le bombole d'ossigeno e a tutti i volontari. Grazie per aver stretto le mani dei malati quando avevano bisogno di qualcuno che desse loro forza e grazie per averli accarezzati quando avevano bisogno di dolcezza. Dal sindaco e presidente della provincia Patrizia Barbieri è arrivato un plauso commovente alla 19enne Giulia e ai suoi colleghi impegnati nella dura lotta contro il Covid-19. La barelliera dell'ospedale di Piacenza pochi giorni fa ha condiviso la sua testimonianza su liberta.it e telelibertà. Ciao, sono Giulia, operatrice della cooperativa Cidas e fin dal primo giorno sono in prima linea insieme ai miei colleghi e alle mie colleghe che insieme a me operano nel servizio trasporto i pazienti dell'ospedale di Piacenza. Nel suo consueto post Facebook serale, il sindaco Barbieri in via di guarigione dopo aver contratto il coronavirus ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e si è poi soffermata su un altro doloroso capitolo dell'emergenza in corso ovvero l'ultimo saluto ai tanti, troppi morti da Covid-19. La dotazione di attrezzature giunte a Piacenza ha specificato Barbieri ad oggi assicura che tutte le cremazioni possono essere effettuate presso l'impianto cittadino di via Porta Puglia come è giusto e doveroso che sia nei confronti di tante famiglie già duramente provate dal dolore. Grazie 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 Grazie